Oh! Cosa? Sì! E poi si sono trovati Dio Cristo nella migliore forma della stagione! Hanno fatto cacare per metà anno! Puttana è! Mi sono orro su quelli che si è puntato in campionato! Nooo! Nemmeno i fratelli stupidi! Allora sono campionato! Che fischia! Bravo Jack! Ci serve un pochino le tue esperienze perché oggi... Sì! Spara! No! Ok! Oh! Oh! Sì! 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 Sì Dio! Sì Dio! Porca puttana! Sì Dio! Sì Dio! Sì Dio! Sì Dio Dio! Sì Dio Dio Dio! Non può succedere, zitta, 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 basta, è finita, no, no, non ci vedo, che palla ti abbiamo messo, no, madonna, parla così tutto l'altro, il cono sulla sinistra, il cono sulla sinistra, il cono sulla sinistra, il cono, la mano è lunga, è troppo lunga ancora, è troppo lunga, è troppo lunga, andiamo puttaneva, fazza, inizia tutto, aizza tutto, aizza tutto, no, se sei fermato la registrazione mi spargo, ok, no, zitta, 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 è partito, vai, palla di merda, sì, dagliela, dagliela, sì, sì, Sofjan, no, che tiro del calzo, no, bravo, 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 ma cosa vuoi, sì, sì, no, ma come, rinvio, devi arrivare? No, dai, era nostra veramente, per le immagini. Oh, questo. No, mamma mia, mamma sì, vai, che cazzo vuoi? Crescino. Vai, vai Giacomino, Giacomino. Perché lo sceglavo la si che fa Shaolin no ha fatto una roba c'è ha fatto una roba da karate ha però ritornare occhio occhiano ripartire la decima volta ripartiamo cosa assicurare ma non c'è neanche da discutere te di io buono però tu pari un cazzo davvero ma non cazzo non pari un cazzo non pari non pari un cazzo però lo voglio vedere con quelle righe mentalmente dentro ma anche di mezzo metro ma mia puttana cari vaffanculo noi e quest'anno stazzo di riguardenza di merda o si riesce o si riesce a capirla no no ragazzi ma mamma mia la difesa la difesa ragazzi la difesa la difesa e ora sono partito si sono svegliati tutti se non si rischia un altro se non si sveglia un attimo no ma è il donnera cazzo c'è arrivato i suoi bravi con cario stasera mi sbaglio no mamma mia esci terraciano dio madonna ragazzi ma paparendola dai ma paparendola dai ma è piantato ma l'hai piantato ma l'hai piantato ma esci piantato ragazzi tanto era ovvio segnassero tanto era ovvio segnavano piantato ragazzi mamma mia tanto era ovvio segnavano perché stanno continuando a attaccare loro stanno continuando stanno continuando ad attaccare loro eh vabbè non sopporto i portieri connescano ragazzi i portieri poi l'hai piantato si poteva uscisse i volti quindi ci hanno dei riflessori parecchio fisici eccoci eccoci bravo no che sfide eh ma siamo siamo veramente usciti dalla partita eh dopo il gol subito siamo veramente usciti dalla partita non va bene siamo a becoglione di questo siamo a becoglione di questo siamo a becoglione forse mettiamola in mezzo non mi schiaccia brutta però dopo che non è andata in bar no 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 ma lui l'ha preso no no che testa brutta no la Prada è un balzaggio da spada oh oh no noo nooo digito mamma la prospettiva di cazzo come poi magari c'era anche nome però si si ma di sicuro le uscirono la giusta come fa insomma questa bastoni ha a 20 cm di più eeeh cosa ho visto Ma... No, ho fatto l'arrivo. No! 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 Eh, un seriato di cazzo, via. Seriato di nulla. Ci vuole episodi. Ci vuole episodi. Senza l'episodio non ti fa molto. Ma? Buongiorno. Bravo! Bravo! Sono quei tiriati rimbalzano bene. Non ce la fa più. Ciao! Bravo! Maia! Che ha chiuso, Dodò! No, no! Che ha sbagliato? Che ha chiuso? Ha voluto tirare comunque di sinistra, nonostante la sua intera. Bravo! Perché tu vuoi tirare due forze? È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! Cariasi, perché? Maia! Maia! Non ne metti dentro una! Vaffa! Che lui è il film perfetto! Non ne mette dentro una! Mi sta sul cazzo! Non ne mette dentro una! Ciao! 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 Non lo guardo neanche! Non lo guardo neanche! Fuori gioco! Fuori gioco! Ora! Ora! Ora lo dà! Ma come fa? Ha la finalizzazione veramente ragazzi sotto piedi! Ma com'è possibile sbagliati questi gol? Maia! Maia! Bravo! Nooa! Non è possibile! Nooo! Ho messo due! Ho messo due! Ma non è possibile! Non puoi sbagliare così tanto! Non puoi sbagliare così tanto! Non è possibile! Non puoi sbagliare così tanto! Non puoi sbagliare così tanto! Ma poi sento che Emma ha un buon movimento! Ma lo mette dentro! Fa l'attaccante! Non lo mette dentro! E allora cosa me ne faccio? No abbiamo attaccato un fan go! Noi fanno momenti buoni! Ma va a fare la ballerina! Cioè... Cioè vogliamo un go stasera! Vaffanculo! Per favore! Per favore Nietzsche! Non ci voglio Arenda! Non si vince stasera! Ci voglio Arenda! Non c'è il verso! Bravo! Eh ragazzi via! Che vi devo dire! Io... Io sto un... Un partenero di me in colpa sua! Questo non era facile eh ragazzi! Oggettivamente dai! No! No! Mico! Quando puoi fare troppo! Quattro punto tre! Quattro punto tre! L'altro un cacco che vuole entrare anche sul sinistro! E cercare il tiro degli altri! Che palle Dio Bono! Che partita di cazzo se penso! C'è tutto in questa partita! C'è tutto! C'è tutto! C'è tutto! C'è tutta la Fiorentina di quest'anno c'è! Della sua vita! 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 Adesso ce ne siamo mangiare in tutto l'anno! E in questa partita uguale! 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 Qui cazzo di sente se metto un altro! Vorta un piede in campo! Io Dio Bono! Guarda! Ti suonare un tre vuoi spendere! Ma io non lo voglio più vedere! Io non lo voglio più vedere! Mi sta sul cazzo! Fai i movimenti! Ma fai il ballerino! Fai il ballerino! Vai a fare! Vai a fare il ballerino! Vai! Corri! Facciamo di Dio! Corri! Perché ti fermi? Sono più forti! Via dai! Sono più forti! Però noi siamo degli imbecili! Siamo degli imbecili! Le vent'anni non vinco una coppa! Vaffanculo! Le vent'anni non vinco una coppa! Le vent'anni non vinco una coppa! Le vent'anni non vinco una coppa! Vaffanculo! Le vent'anni! Le vent'anni non vinco una coppa! Sempre per le solite troiate! Sempre per le solite troiate! Le vent'anni non vinco una coppa! Vaffanculo vai! le vent'anni non vinco una oppa a lei, le vent'anni ma vaffanculo vai, sempre quelle solite troiate niente, si sono dovuti far ripartire da metà primo tempo fino alla fine primo tempo 50 volte e guarda, solo 2 goccia hanno fatto, perché se no ce ne poteva fare anche altre 5 e il genio si mangia un bobe davanti alla porta, era amoroso ma vaffanculo vai, ma dai, ma io che incinamento di coglione infinito guarda che incinamento di coglione infinito